Temporali in tutte le marche, allerta meteo anche per la giornata di domani Cala il sipario sulla stagione balneare, il maltempo anticipa la chiusura degli stabilimenti Nuovo asilo alla torraccia, il cantiere partirà entro la fine dell'anno Verso il giubileo, diocesi pesaresi con 700 pellegrini in cammino per il Vaticano Pesaro aspetta 750 atleti per il campionato mondiale di ginnastica aerobica Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News Telegiornale di martedì 17 di settembre che apriamo occupandoci della situazione meteorologica e nella regione Marche con quella di oggi che è stata una giornata segnata da temporali persistenti e anche da diverse segnalazioni di allagamenti soprattutto nella parte meridionale della regione Marche ma anche segnalazioni di allentamenti di tensione di corrente La protezione civile invita a prestare massima attenzione disponendo un'allerta per rischio idraulico e idrogeologico che sarà prolungata anche per il Comune di Pesaro fino all'intera giornata di domani 18 di settembre E questo mese di settembre di tempo inclemente di fatto archivia ogni ipotesi di prolungamento della stagione balneare che veniva ventilata fino alla settimana scorsa Cala dunque il sipario su un'estate già fortemente complicata dal fenomeno delle mucillagini La stagione estiva quest'anno si sarebbe dovuta prolungare permettendo a tutti di andare in spiagge e fare un tuffo al mare quantomeno fino alla fine di settembre ma il meteo non è sembrato essere d'accordo e da fine agosto ha accompagnato il litorale pesarese con incessanti piogge e basse temperature che hanno dunque compromesso il prolungamento della stagione e spronato i balneari nel liberare le spiagge Nonostante le mille difficoltà ci eravamo prodigati per allungare la stagione per arrivare anche magari verso il 20 di settembre però come sempre è il tempo che decide e il tempo ha deciso che le temperature minime la sera vanno sui 12 gradi durante il giorno non salgono mai sopra i 20 per cui è finita la stagione dei bagni al mare La valutazione che emerge comunque da questa ipotesi di un prolungamento della stagione resta positiva ma soltanto in maniera parziale In qualche maniera almeno il weekend avremmo potuto dare una risposta a chi voleva fare ancora un weekend al mare ma ci avrebbe permesso anche di chiudere con più calma le strutture e di sistemare le cose in maniera diversa e invece abbiamo dovuto fare veramente una volata finale quest'anno 2024 Abbiamo dovuto ritirare tutto molto in fretta e in più comunque eravamo in ansia un po' anche per queste allerte meteo continue che ci sono state sia per il forte vento dei giorni scorsi che per la pioggia insistente che ci aspetterà oggi martedì ma anche mercoledì e giovedì Forse smetterà di piovere venerdì mi dicono le previsioni Si riflette dunque per il futuro chiedendo una migliore organizzazione e soprattutto tempistica così da poter preparare la stagione nel caso dovesse prolungarsi nuovamente in maniera migliore Le cose vanno programmate, il lavoro va programmato e anche per avere il personale perché è impossibile gestire un lido da sole quindi anche con i dipendenti aver contrattato delle date, delle situazioni La situazione del salvataggio in cui la Capitaneria di Porto ci ha chiamato il 28 agosto per una cosa che doveva essere un cambiamento delle regole dal primo di settembre è stata una cosa veramente che ci ha messo un pochino in difficoltà Tolti i lettini e sdraio è tempo anche di bilanci si tirano dunque le somme sulla stagione estiva che si è appena conclusa Come Pesaro capitale della cultura doveva essere sinceramente una stagione promettente e all'inizio in primavera, inizio estate, lo è stata abbiamo visto diversi turisti che venivano proprio per vedere la città e che si fermavano anche al mare e poi abbiamo avuto lo stop delle mucillaggini lì si è segnato un po' il passo qualcuno ha cambiato le prenotazioni ha accorciato, posticipato le partenze quindi c'è stato un momento di stasi purtroppo per il nostro turismo per questa emergenza ambientale che comunque non era dovuta all'inquinamento ma alle altissime temperature che abbiamo avuto sia in luglio che in agosto veramente temperature molto pesanti Maltempo che in questi giorni ha creato anche danni è l'ecaso del Pino secolare crollato lo scorso venerdì in Viale della Liberazione a Pesaro e che costringerà ad un intervento di ripristino della pista ciclabile tuttora interrotta Resta chiuso al transito il tratto di pista ciclabile di Viale della Liberazione e lo sarà almeno fino alla fine del mese in seguito al crollo del secolare Pino d'Aleppo collassato al suolo venerdì scorso per le forti precipitazioni di pioggia che presumibilmente l'hanno caricato d'acqua sbilanciandolo con la complicità di un impianto di radici ridotto La pianta è stata in gran parte rimossa ma la pista rimane chiusa perché le radici hanno sollevato l'asfalto e andrà eseguita un'opera di rimozione delle parti residui dell'albero per poi sistemare la sede stradale Il crollo della pianta per fortuna non ha creato danni a persone che non transitavano al momento del crollo ma il precedente porta Aspes a intensificare il monitoraggio sullo stato di salute delle altre piante presenti nella zona per scongiurare il ripetersi di analoghe situazioni in questo proseguire di periodo di maltempo Passiamo alla cronaca e torniamo ad occuparci dell'omicidio di Ana Cristina Duarte Correia perché si è svolta questo pomeriggio l'autopsia sul corpo della donna di 38 anni uccisa lo scorso 7 settembre nella propria casa di Saltara di Coglia al Metauro dal marito Ezio di Levrano in carcere per omicidio volontario aggravato I risultati dell'autopsia chiariranno aspetti tecnici della dinamica che ha portato all'omicidio mentre è stata fissata per venerdì l'udienza di affidamento dei tre figli della coppia al momento accolti da una struttura protetta Si chiamava Nadia Isabella Spormeyer la turista tedesca di 55 anni morta ieri nell'incidente in autostrada a un chilometro dal casello di Fano La donna che rientrava in Baviera dalle vacanze nel sud Italia è morta in uno scontro con un furgone guidato da un 49enne dello Sri Lanka residente nel Riminese Vano il soccorso dell'ambulanza atterrata in autostrada la donna è morta per la gravità delle ferite riportate è stato invece trasportato nel soccorso ad Ancona in gravi condizioni il marito della donna Robert Spormeyer che era alla guida del veicolo Cambiamo argomento perché prende corpo il progetto del nuovo asilo nido da realizzare a Pesaro nelle quartiere della Torraccia un cantiere che partirà entro la fine dell'anno Prende corpo il progetto del nuovo asilo nido che il comune di Pesaro ha scelto di costruire nel quartiere della Torraccia intercettando 2 milioni e 160 mila euro di fondi PNRR si tratta di un asilo da 90 posti per bambini nella fascia d'età 0-3 anni che darà ossigeno alle liste d'attesa per le famiglie pesaresi a partire dal settembre 2026 già perché il servizio ai lavori pubblici del comune ha avviato la procedura che porterà alla gara d'appalto il cronoprogramma prevede di aggiudicare i lavori entro il 31 ottobre cominciare il cantiere entro la fine del 2024 e consegnare l'opera entro il 31 marzo 2026 come imposto dalle regole dei fondi PNRR l'asilo sorgerà nell'area diacente al piazzale Vittime della Isel tra Via degli Abeti e Via dei Frassini si tratta di un'area inizialmente destinata a luogo di culto per il progetto dell'Arcidiocesi di costruire una chiesa nel quartiere sprovvisto di una comunità parrocchiale si è però trovato un confronto fra le comune e la Curia alla quale sarà comunque garantita l'edificazione della chiesa nel quartiere conciliandola con la realizzazione dell'asilo in un'area residenziale priva di simili servizi educativi Nel pomeriggio di domani 18 settembre il reparto di Otorino la ringoiatria dell'azienda sanitaria pesarese aderirà alla campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo mettendo a disposizione visite gratuite all'ospedale Santa Croce di Fano per accedere a queste visite di prevenzione è obbligatoria la prenotazione chiamando domani il numero telefonico 0721 88 2434 dalle ore 12 alle ore 13 e 30 Le diocesi di Pesaro, Fano e Urbino unite nell'organizzare un grande pellegrinaggio in vista del Giubileo 2025 un anno giubilare che verrà aperto da un importante momento di approfondimento che si terrà questo giovedì all'Auditorium Scavolini di Pesaro Le arcidiocesi di Pesaro, Fano e Urbino si muovono unite verso il Giubileo 2025 lo faranno in 700 il prossimo 22 febbraio nel pellegrinaggio in treno verso il Vaticano un'esperienza profonda quella del Giubileo che l'Arcidiocesi intende celebrare con un confronto aperto a tutti i pesaresi il 19 settembre all'Auditorium Scavolini alla presenza di Monsignor Rino Fisichella delegato da Papa Francesco all'organizzazione dell'anno giubilare l'Arcivescovo Sandro Salvucci enfatizza un percorso di fede che porterà a formare i prossimi pellegrini della speranza il pellegrinaggio il mettersi in cammino il camminare il mettersi in cammino rappresenta l'esperienza proprio umana più tipica e significativa indica quindi una propensione una prospettiva un andare verso una meta un guardare verso il futuro e poi c'è l'esperienza della porta la porta santa che è un segno anche questo forte passare una porta che introduce a una novità introduce quindi a un passaggio della propria vita da una situazione di fatica di difficoltà verso un incontro che dona fiducia che dona speranza il giubileo dunque è un'esperienza certamente di fede che innanzitutto è proposta ai cristiani ma è una realtà che contiene un messaggio importante per tutti gli uomini e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché in questo tempo così difficile che viviamo vivere il giubileo vuol dire annunciare una speranza rianimare la speranza il desiderio del Santo Padre è di proprio caratterizzare l'anno giubilare del 2025 sul tema della speranza ecco il bisogno che tutti gli uomini hanno di sperare in un momento così difficile e quindi le diocesi di Pesaro Urbino Fano le tre diocesi della metropolia hanno deciso di lanciare l'anno giubilare a partire da questo incontro a cui abbiamo invitato e siamo molto onorati di avere la presenza di colui che è chiamato a organizzare a coordinare tutta l'organizzazione del giubileo del 2025 che è il pro prefetto del di Castero per l'Evangelizzazione Monsignore Rino Fisichella e quindi siamo molto contenti di accogliere tutti quelli che vorranno all'auditorium Scavolini venerdì 20 di settembre in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer il villaggio Civitas della Psella di Montelabate apre le sue porte invitando la cittadinanza al suo primo mercato intergenerazionale dalle 8 alle 13 grazie al coordinamento dell'associazione Non Nomino sarà allestito un villaggio di prodotti agroalimentari artigianato e momenti di intrattenimento frutto di un progetto di integrazione delle fasce fragili degli anziani E sempre venerdì 20 settembre a Pesaro nella sala delle consiglio comunale l'associazione a difesa delle donne Gens Nova terrà il convegno sulla violenza di genere dal titolo o mia o di nessuno interverranno la delegata regionale dell'associazione Monica Panizza il sostituto procuratore di Pesaro Enzo Napolillo e gli avvocati Antonio Maria Lascala e Elena Fabri Il 22 settembre ricorrerà invece la tradizionale giornata del volontariato di protezione civile della regione Marche festa che quest'anno si celebrerà a Pesaro e sarà dedicata all'impegno di tutti coloro che si prodigarono durante le giornate del settembre 2022 quando la regione fu colpita dai tragici eventi alluvionali sarà una mattinata di celebrazioni e di ringraziamento che si dividerà fra Piazza del Popolo e lo spazio antistante l'Auditorium Scavolini Lo sport di livello internazionale torna a strezzare l'occhio agli obiettivi di destagionalizzazione turistica della città di Pesaro che si prepara ad accogliere un migliaio di presenze in città in occasione dei campionati mondiali di ginnastica aerobica La prima settimana ospiteremo il campionato mondiale junior che si chiama in termine tecnico World Age Group Competitions dal 20 al 22 settembre il campionato mondiale vero e proprio invece sarà dal 27 al 29 settembre la location è quella della Vitrifrigo Arena quindi assolutamente consolidata perché nel 2021 Esa Tour Group ha organizzato il campionato europeo di aerobica per cui è stato fatto un salto di qualità dal campionato europeo al campionato mondiale e naturalmente invitiamo tutta la cittadinanza i botteghini saranno aperti a partire da venerdì 20 alle 9 per tutti i sei giorni di manifestazione altrimenti c'è una rivendita online attraverso il sito vivaticket.it Il campionato del mondo di aerobica qui a Pesaro è sicuramente una cosa eccezionale i paesi sono tantissimi arriva in un momento particolarmente felice per lo sport italiano dopo le Olimpiadi di Parigi ma soprattutto per la ginnastica è mai successo di vincere cinque medaglie alle Olimpiadi passati ormai quasi cento anni da quella volta prima della guerra addirittura della seconda guerra mondiale ma soprattutto tutto il nostro movimento e tutto il nostro movimento tutta la nostra federazione sta crescendo Il turismo pesarese ringrazia perché abbiamo portato 750 atleti facenti parte di 38 delegazioni una destagionalizzazione fino al 29 di settembre studiata a tavolino per coprire il periodo post Fiera di San Nicola coloreranno la nostra città Pesaro si riempie di ginnastica a dimostrazione di quanto sport e cultura sia un binomio vincente è un grande evento che Pesaro accoglie favorevolmente Ed ora chiudiamo il nostro telegiornale in musica andando a farvi ascoltare l'ultimo singolo del cantautore pesarese Davide Pagnini che ci racconta la sua chilometro zero chilometro zero è un brano che parla di esperienze che ho vissuto di viaggi con persone care è un brano che parla di traguardi di arrivi ma anche di partenze e di riscoperte e un po' mi sono chiesto in questo brano quale fosse il punto esatto in cui queste due cose si uniscono un arrivo e una ripartenza e mi è venuto in mente che appunto a Santiago quando ho fatto il cammino di Santiago qualche anno fa c'è questa questa bella contraddizione io la chiamo perché l'arrivo del cammino di Santiago è al chilometro zero però effettivamente di solito da zero si parte non è che a zero si arriva e quindi questa cosa mi ha sempre creato un disequilibrio interiore finché poi mi sono detto beh effettivamente quello è un punto di arrivo però poi da qui bisogna tornare a casa tu arrivi fino al chilometro zero proprio perché in quel punto lì non manca più nessun chilometro da fare ma sei arrivato al punto di arrivo però devi poi ricominciare devi fare un altro viaggio per tornare a casa e quindi forse è proprio quello il punto in cui le due cose si uniscono ed è proprio per questo che ho scritto questo brano intitolandolo chilometro zero questo brano è uscito il 6 settembre su tutte le piattaforme di streaming e anche su youtube con un videoclip e per seguire questo questo percorso discografico che sto intraprendendo potete trovarmi su tutti i social da facebook instagram e tiktok come davide pagnini e con le note di davide pagnini chiudiamo questa nostra edizione delle telegiornale rossini news ma prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo martedì 17 settembre è dedicata alla seconda puntata di cultura territorio impresa nuovo format che va in onda ogni martedì alla conoscenza di legami tra gli imprenditori e la cultura del territorio seconda puntata incentrata su mauro papalini industriale della papalini spa a cominciare dalle 21 e 20 poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione del mattino quella di buongiorno rossini la segna stampa dei quotidiani locali che va in onda come sempre in diretta alle 7 e 20 domattina a tenervi compagnia ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi si chiude invece qui lo spazio informativo serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti